Ciao, alla prossima. Entra Violetta Foga, si va agli ordini dello start, sclupetemi Roma per favore. Tutto è pronto per il via. Kinsaid, Mafalda di Breme, Kinsaid, Mafalda di Breme, nelle prime posizioni fanno partenza, sita pure Lux Fulgenti. Kinsaid che è superato da Lux Fulgenti, Kinsaid che torna su Lux Fulgenti. Frazione Violenta dei due davanti, poi in terza posizione è andato subito Violetta Fong davanti a Sitapur. La scappano i due davanti allora, Lux Fulgenti e Kinsaid. Kinsaid che non ha lo steccato. Terzo è Violetta che precede Sitapur e con all'esterno Gambei. Quando si entra in dirittura la fuga di Lux Fulgenti da Violetta e Kinsaid, da Sitapur e da Gambei. Poi provano il recupero, Dirty Dancing e all'argo di tutti Charas Beauty. Con Lux Fulgenti, Kinsaid, Violetta inseguiti da Gambei, Sitapur e Charas Beauty all'argo di tutti. Con sempre questi a lottare, Violetta Fong, Lux Fulgenti all'argo di tutti, prova il recuperone Charas Beauty. Con questi davanti che sono un po' stanchi, con Violetta che passa inseguito da Charas Beauty. Violetta contro Charas Beauty, Violetta in vantaggio. Violetta che vince, Violetta Fong che vince lasciando Doc Charm all'interno e Charas Beauty di fuori per il secondo e terzo. Non sbaglia un colpo per Domenico ragazzi, tutte le volte va a stracorso. Charas Beauty che perde da Violetta Fong. Quindi vince Violetta Fong, quota molto alta, 9,39 una bella quota.